Oh eccomi di nuovo qui e benvenuti e benvenute a tutti voi e niente come potete vedere davanti ai vostri occhi il tutorial di oggi parlerà di foto dei matrimoni ormai come sapete siamo dentro al periodo dei matrimoni, battesimi, comunioni io per dirvi quest'anno ne ho già cinque, anche troppi ho già fatto una comunione, un battesimo e un matrimonio quindi chi come me scatta tante foto in questi eventi ho voluto fare questo tutorial per cercare di aiutare a creare degli effetti diversi come potete vedere qui davanti a voi ho creato un effetto bagliore bagliore tipo diffusione di luci e niente oggi vi mostrerò come effettuare questo meraviglioso effetto quindi andiamo a vedercelo per bene come potete vedere ho creato questo effetto con le luci principalmente la foto era solo con uno sfondo sfocato e ho ricreato questo meraviglioso effetto ma veniamo a noi e vediamo come realizzare questo stupendo effetto quindi andiamo a cancellare il tutto ecco come vi dicevo prima questo era lo sfondo che avevo io all'inizio cioè la sposa in primo piano e lo sfondo sfocato ho come potete vedere qui aggiunto dei pallini bianchi, gialli, arancioni che potete aggiungerli anche voi per creare magari quei tocchi in più di effetti di luce semplicemente andando su il nostro pennello e prendendo un pennello morbido opacità 63% vi faccio vedere creerò così come potete vedere delle palline colorate semplicemente così da giocare un po' più sui colori ecco una volta che ho il mio sfondo con i miei pallini sfocati cosa andremo a fare? andremo a copiarci il nostro livello quindi con CTRL J o livello nuovo livello andremo a copiarci il nostro livello una volta copiato il nostro livello dovremo aggiungergli una maschera quindi o cliccheremo sul pulsante qui sotto o se volete andrò su livello quindi farò livello maschera di livello mostra tutto e mi si creerà questa iconcina qui della mia maschera di livello bene ora andremo sulla nostra maschera di livello se non ce l'avete selezionata cliccateci sopra e selezionatela e andremo su immagine e applica immagine mi ero un po' perso non trovavo più applica immagine bene lasciate pure tutto com'è e cliccate su ok come vedete Photoshop mi avrà creato mi avrà applicato l'immagine che avevo io di sfondo sulla mia finestra la mia maschera bene una volta fatto questo andremo a cambiarci la nostra opzione di fusione in colore scherma e come vedete le luci prenderanno più colore bene una volta che abbiamo tenuto selezionato sempre il nostro livello cosa andremo a fare andremo a crearci un gruppo quindi per far molto più veloce ve lo dico io con CTRL G come vedete ho creato il mio gruppo che comprenderà più livelli scusate scusate mi era apparsa una finestra sul computer e niente come dicevo prima avrò creato un gruppo un gruppo però è creato da più livelli quindi andremo a selezionarci il nostro livello che abbiamo dentro il nostro gruppo e con CTRL J andremo a fare praticamente due livelli quindi il nostro gruppo come vedete qui se clicco sulla freccetta avrò rinchiuso i miei due livelli adesso andremo a riapircelo ecco una volta fatto questo cosa dovremmo andare a fare praticamente dovremmo andare a selezionare uno di due livelli e andargli a dare un effetto movimento alle nostre luci quindi cliccheremo magari sul primo e andremo su filtro sfocatura effetto movimento una cosa molto importante è che chi ha fatto come me una foto con una reflex quindi di alta risoluzione è meglio ripetere questo tipo di effetto più volte questo perché si realizzerà meglio l'effetto come potete vedere qui di striatura io faccio un 45 gradi è una distanza di 250 dopo voi la distanza potete scegliere a vostro piacere clicco su ok e applicherò così il filtro alla mia immagine come dicevo prima ripeto se necessario quindi filtro sfocatura effetto movimento e mi ripeto un'altra volta il mio effetto io me lo ripeto per ben tre volte per essere sicuro di avere un effetto movimento molto dettagliato quindi per la terza volta qui c'è tutto a posto cliccherò su ok quindi andrò a selezionarmi stavolta l'altro livello andrò a fare la stessa cosa stavolta però sfocatura filtro sfocatura effetto movimento visto che prima avevo selezionato un meno 45 gradi quindi da sta parte stavolta selezionerò i miei 45 gradi cioè l'inverso e cliccherò su ok la distanza la lasciamo sempre com'è e faremo anche questo io come vi ho detto lo faccio tre volte perché ho un formato più grande quindi una filtro sfocatura controllo effetto movimento ok due e per l'ultima volta e abbiamo finito e clicco su ok bene ora dovremo contrastare praticamente gli effetti movimento che abbiamo fatto quindi andrò a selezionarmi uno dei due livelli parto sempre dal primo andrò a fare filtro nitidezza per chi ha photoshop cs6 altrimenti andrò a fare contrasta per chi ha photoshop cs5 o precedenti e si troverà questa maschera di contrasto io clicco su maschera di contrasto e andrò come vedete già si vedono i primi effetti ad aggiungere ad aggiungere un fattore di 250 un raggio di 25 e la soglia la lasciamo pure a 0 comunque se a voi può piacere come vedete qui aumentando per me diminuisce l'effetto quindi è meglio lasciarla a 0 quindi 250 25 0 clicco su ok stessa cosa una volta fatto andrò a fare all'altro livello quindi filtro nitidezza maschera di contrasto ecco come vedete avrò cliccato i due effetti clicco su ok bene adesso come vedete questo effetto purtroppo si è ripercosso anche sulla faccia sull'immagine della persona che ho nella foto quindi in questo caso della sposa e io non lo voglio quindi lascerò si degli effetti luce vicino al viso e soprattutto sulle rose però voglio fare un effetto più sfumato quindi cosa andrò a fare andrò a aggiungerli a tutti e due i livelli di questo gruppo una maschera di livello andrò a prendere selezionando poi la mia gomma e con un'opacità del 50% facciamo anche partiamo più bassi da un 35% mi raccomando che il pennello sia grande non più grande comunque della sposa in questo caso andrò a cancellare quello che voglio far risaltare un po' di più quindi lo faccio sul primo livello e lo faccio sul secondo e come vedete lascerò sempre il mio effetto pur avendo comunque come vedete l'effetto lucentezza e bagliore diffuso sulla mia foto bene ora se volete non vi piace magari il colore del bagliore che avete dietro la foto e via dicendo cosa si fa? si può cambiare il colore quindi come si fa? andremo su immagine regolazioni tonalità e saturazione tramite questa tonalità e saturazione noi spostando praticamente il nostro come vedete regolatore andremo a decidere come vedete io ho dato un po' più di gialle più verde anche se mi sembra un po' eccesso e se volete dargli solo un colore cioè quello che scegliete qui andrete a cliccare su colora e come vedete si creerà questo effetto una volta che vi è piaciuto l'effetto cliccate su ok e come vedete sono andato a colorare praticamente la mia maschera di movimento di luce stessa cosa sull'altro livello immagini regolazioni tonalità e saturazione e se voglio cambiare clicco su colora per fare più effetti o mi sposto principalmente in queste zone qui a me va bene così e sono a posto quindi una volta finito mi chiuderò il mio gruppo cliccando sulla freccetta e andrò a cliccare questa serie dei tasti cioè shift control alt e questo perché perché come potete vedere mi racchiuderà se io vado a eliminare gli altri livelli mi racchiuderà tutto quello che ho fatto in un unico livello questo mi servirà perché cliccandoci due volte col mouse andrò a cliccare su bagliore interno dove sei eccoti qui e con con la distanza cliccando sulla distanza andrò come vedete a crearmi quell'effetto bagliore nel contorno della mia foto bene una volta che siamo arrivati a questo punto non ci basterà altro che selezionare e fare la nostra firma io scriverò la mia mg fotografica andrò a selezionarmi un livello riprendo ecco lo strumento sposto andrò a posizionarmelo dove voglio ed ecco qui finito questo sarà il nostro effetto finale spero che vi piaccia per me è un effetto molto carino mi raccomando continuate a seguirmi iscrivetevi per essere sempre aggiornati sui miei nuovi tutorial io vi saluto ciao e alla prossima ciao